Qualche domanda anche a Piliberdv. Grazie Emma. Prima di tutto volevo chiederti come stai. Io un po' dipende dai giorni. Comunque è chiaro che il microcitoma per il momento non c'è, ma ha lasciato tutto un dato di fragilità nei vari organi. Per cui sono un po' fragile, mi stanco facilmente. Immaginiamo, infatti cerchiamo di essere rapidi. Allora, prima di tutto volevo chiederti, intanto complimentarmi personalmente per aver coniato questo termine, l'unumviro, relativamente alla lettera proveniente da Maurizio Turco. Io vorrei sapere da te la prima reazione che hai avuto leggendola. La reazione è quella che ho detto. A me non viene come reazione di iscrivermi di più e di fare iscrivere di più. E mi è venuta anche la reazione di correggere una mancanza di informazione rispetto al rapporto con la fondazione Soros, che continua anche in questi momenti. Probabilmente è saltato un paragrafo nel file, ma sono sicura che Antonella Casu, anche Rita Bernardini, che ne sanno molto più di me nel dettaglio di questa situazione, provvederanno a correggere. Senti, questa giad interna, io la chiamo giad perché ormai ha dei toni così veramente viscerali, ma non pensi che veramente sia molto efficace nel tagliare le già scarse risorse umane, se così vogliamo dire, i numeri, perché poi le proposte radicali ci sono, però nel momento in cui servirebbe una maggiore capacità di penetrazione, ci si dissipa. Io trovo che per come siamo cresciuti, fatti, organizzati o disorganizzati, la scomparsa di Marco Pannella avrebbe certamente prodotto, e mi pare che sta producendo il minimo sindacale sostanzialmente, quindi non lei prova a immaginare che qualunque altro partito avrebbe avuto una transizione, o un periodo, insomma, certamente molto turbolento. Ed è proprio per questo che penso che, calmando un po' gli animi e evitando ognuno di noi, o di noi, insomma, a ergersi a erede vero del pensiero di Pannella, che è sgradevole, ognuno ha interiorizzato gli insegnamenti di Marco a modo suo e ovviamente è il momento adesso. Penso che ci sia un po' di ostentazione a volte. No, no, penso che rifarsi è più facile in qualche modo, no? Semplicemente attribuire l'interpretazione autentica, insomma, prevede che ce ne possono essere molte altre. Marco era una persona di tante sfaccettature, che insomma, si può sempre trovare la frase che ti fa comodo, non so, si fa sempre così. Ed è un esercizio che consiglierei di non fare. Un'ultima cosa, Emma. Il comportamento del nostro governo, insomma, qualcuno, diciamo, lamenta il fatto che Renzi si sia fatto sentire battendo i pugni sul tavolo, poi c'è stato il duetto con Orban, ha richiamato un po' la responsabilità dello stare insieme in questa Unione Europea, relativamente poi alla questione profughi e immigrazione. Ecco, tu come commenti questa cosa? Io penso che le sparate non servono molto, forse servono a un'opinione pubblica interna, sostanzialmente. Come tutti fanno, tutti i capi di Stato parlano alla loro opinione pubblica, oltre che invece di occuparsi di Europa, insomma. Però, per quanto io capisco, non è che servano molto. Può servire una volta ogni tanto, ma su una linea su cui poi uno è disposto anche a rischiare, è disposto a dei dati di tenuta, che a volte però non vedo. Per cui, insomma, io penso che serva una posizione sicuramente rigorosa, un'assicurazione forte, ma insomma le rotture estemporanea non sono mai servite. Grazie a tutti.